Il giorno in cui ho iniziato la mia esperienza a Comexi, ho ricevuto un'accoglienza molto calorosa. Ho incontrato molta disponibilità e collaborazione per potermi integrare con gli altri colleghi. Grazie a ciò, fin dal primo momento, mi sono sentito parte di questa grande azienda e di questa grande famiglia. Il programma di formazione che ho ricevuto è stato di una qualità eccellente, accademica, con sessioni teoriche, alternate a sessioni pratiche, nel centro tecnologico Manel Cifra Buadas. Grazie al programma di formazione ho potuto apprendere i concetti e le nozioni necessarie per poter iniziare a operare nel settore dell'industria di conversione dell'imballaggio flessibile.